è necessario che ritorniate indietro ricominciando dalla prima classe della preghiera voi infatti non sapete ciò che è fondamentale nella vita di preghiera pregare il padre nostro pregare la preghiera del mattino e della sera affidarsi a me dovete imparare prima questo per poter poi pregare bene il rosario stasera allora proverete a pregare un padre nostro radicale e non un padre nostro pregato superficialmente cercate stasera di avvicinarvi a quel padre per il quale pregate al quale dovete anelare ogni giorno e del quale la vostra anima deve aver sete non lasciate che vada perso questo tempo in cui imparate ad entrare nella preghiera e non dimenticate la preghiera non è completamente preghiera finché il vostro cuore non sarà felice ora dunque meditiamo il padre nostro frase per frase e impariamo a pregarlo padre chi è questo padre di chi è questo padre dov'è questo padre questo è il padre vostro perché avete paura di lui tendetegli le vostre mani lui si è concesso a voi come padre vi ha dato tutto sapete che i vostri padri terreni fanno tutto per voi tanto di più fa il vostro padre celeste ti dà tutto padre che sei nei cieli fare una breve pausa significa il tuo padre terrestre ti ama ma il tuo padre celeste ti ama ancora di più tuo padre è capace di arrabbiarsi lui no lui ti offre solo amore in cambio devi rispettarlo perché lui ti ha dato tutto e perché tuo padre lo devi amare tu devi glorificare e lodare il suo nome tu devi dire ai peccatori lui è il padre sì è mio padre e desidero servirlo e glorificare solo il suo nome questo vuol dire sia santificato il tuo nome venga il tuo regno così si ringrazia gesù e gli si intende dire gesù noi non sappiamo nulla senza il tuo regno siamo deboli se non ci sei tu presente insieme a noi sia fatta la tua volontà o signore fa che il nostro regno sprofondi fa che solo il tuo regno sia quello vero fa che noi ci rendiamo conto che il nostro regno è destinato a finire che subito ora permettiamo che sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra significa qui signore si dice come ti ubbidiscono gli angeli come ti rispettano fa che anche noi possiamo essere come loro fa che anche i nostri cuori si aprano e che possano rispettarti come ora lo fanno gli angeli e fa anche in modo che sulla terra possa essere tutto santo come lo è nei cieli dacci oggi il nostro pane quotidiano significa dacci signore il pane ed il cibo per il nostro animo daccelo ora daccelo oggi daccelo sempre che questo pane possa diventare il cibo per l'anima che ci nutra che quel pane santifichi te che quel pane divenga eterno o signore noi ti preghiamo per il nostro pane o signore fa che noi lo riceviamo o signore aiutaci a capire ciò che dobbiamo fare fa che ci rendiamo conto che il pane quotidiano non ci può essere dato senza la preghiera rimetti a noi i nostri debiti significa rimetti signore a noi i nostri peccati rimetticeli perché noi non siamo buoni e non siamo fedeli come noi li rimettiamo ai nostri debitori significa rimettili a noi perché anche noi li rimetteremo a coloro ai quali fino ad ora non eravamo capaci di farlo o gesù rimetti a noi i nostri debiti ti supplichiamo voi pregate che vi siano rimessi i peccati nella stessa misura nella quale voi li rimettete ai vostri debitori senza rendervi conto che se i vostri peccati fossero rimessi veramente così come voi li rimettete agli altri sarebbe una ben misera cosa ecco che cosa vi dice il vostro padre celeste con quelle parole e non ci indurre in tentazione significa signore liberaci dalle grandi prove signore noi siamo deboli fa o signore che le prove non ci inducano alla perdizione signore liberaci dal male fa che nelle prove riusciamo a trovare qualche cosa di buono un passo nella vita a men così sia signore sia fatta la tua volontà